In America brucia la California, in Italia bruciano Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Puglie, in Europa Spagna, Portogallo, Turchia e adesso anche la Grecia, non solo Atene ma anche l'area archeologica di Olimpia, tesoro universale dell'umanità. Tutti sanno che gli incendi sono causati anche da riscaldamento globale, ma giornali e giornalisti evidentemente legati a quelli che sono i principali responsabili del consumo di risorse energetiche fossili, petrolieri, carbonieri e deforestatori senza scrupoli, negano addirittura il fenomeno del surriscaldamento globale, mentre vediamo tutti i giorni i ghiacciai della Groenlandia che si squagliano sotto i nostri occhi. Se non siete ciechi, quei giornali e giornalisti negatori del fenomeno li vedete nei talk show e li conoscete tutti e sapete di quali partiti e di quali politicanti sono sostenitori. Usiamo l'unica arma lecita disponibile contro di loro, contestiamo le presunte verità di quei media e non votiamo quei partiti, a cominciare dalle elezioni del prossimo 3 ottobre.